Ufficialmente riaperta la strada provinciale numero 20 che collega la Val Pescara all'area vestina attraverso i comuni di Pianella e Loreto a Prutino. Una strada importantissima per la tanta economia che gira tra le due zone della provincia di Pescara. Strada che subì dei danni gravissimi nelle nevicate del 2017 e che dopo tre anni torna ad essere usufruibile dai suoi pendolari. Sì, una grande soddisfazione per tutti, un grande rammarico perché sono passati tre anni, tre anni di disagi alla popolazione, all'utenza della strada e in due mesi di lavoro abbiamo dato dimostrazione di concretezza, di saper lavorare, di saper organizzare e soprattutto di raggiungere gli obiettivi prefissati, prefissi. Dal 2019 ad oggi sono stati realizzati circa 14 milioni di asfalti sulle strade provinciali, circa 60 procedimenti di impegni lavorativi, quindi gare, progetti, che sono tutt'ora in essere e che bisogna ancora concretizzare. E questa opera è un'altra opera dove abbiamo risposto, come dicevo prima, con concretezza. La prima risposta l'abbiamo dato sul ponte del fiume Nora sotto a Vallemare. In due mesi abbiamo riaperto la strada che era anche lì un problema economico di zona. Poi successivamente abbiamo riaperto la rotonda sotto la 81 sotto a Vallemare ed oggi questa strada. Nell'arco di otto mesi abbiamo concretizzato ciò che non si è stati capaci in tre anni di concretizzare. Sì, abbiamo cercato di supplire in questi anni con le nostre arterie comunali, che però erano assolutamente insufficienti, tanto è vero che abbiamo dovuto limitare ovviamente il traffico soltanto alle categorie dei residenti e delle persone che avevano necessità lavorative. La sofferenza c'è stata, i risvolti economici purtroppo ci sono stati anche quelli. Adesso dobbiamo guardare avanti e cercare di sfruttare questa opportunità di continuare a percorrere, di riprendere a percorrere in sicurezza questa fondamentale arteria per riallacciare tutti quei collegamenti che costituiscono poi il volano delle nostre economie. Grazie. Grazie. Grazie.